La differenza tra la Juve e l'Inter è nello sforzo che l'Inter fa per essere all'altezza. Conte ha trasformato la squadra, ma l'Inter dà l'idea sempre di essere dentro una fatica continua. È come se ad alto livello avesse sempre bisogno di compiere un'impresa. C'è meno naturalezza nel gioco, deve sempre correre e lottare. La Juve nel ritrovarsi ha finito per cambiare il suo allenatore. Sarri da tattico è diventato tecnico, pensa di volta in volta non più una buona idea per tutte le stagioni, ma una partita, cioè le antitesi degli anni di Napoli. Bernardeschi ha ammarcato Brozovic da vicino, il gioco è più raramente di prima, si tende a far pesare la maggior classe dei singoli. La diversità di Sarri è adesso un velo che cade su tutto, non un'evidenza precisa. È un salto di qualità che si allarga lentamente, ma ormai sfiora ogni idea, ogni singola azione della Juve. Non so se sarà anche una Juve migliore nei risultati, ma ora è quella di Sarri.